Verbania investe nelle opere pubbliche e sono iniziati negli scorsi giorni i lavori in diverse zone della città. Il via al cantiere per l'allargamento di un tratto di strada di via alla ferrovia in corso ancora per 40 giorni. Un'opera necessaria per il miglioramento della viabilità della zona anche se sono previsti disagi in seguito alla temporanea chiusura fasce orarie della strada per permettere di operare in sicurezza. Il blocco della strada è previsto dalle ore 8.30 a mezzogiorno in mattinata e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 nel pomeriggio. Un cantiere che è costato all'amministrazione comunale verbanese 40.000 euro e che prevede nel primo tratto l'allargamento della carreggiata di circa 2,50 metri in modo da ottenere una larghezza complessiva pari a 4,50 metri. La scarpata a monte sarà contenuta con un manufatto di sostegno realizzato con blocchi prefabbricati e sormontato da una recinzione con paletti metallici e una rete plastificata. Inoltre si prevede la copertura della strada con un manto bituminoso e la raccolta delle acque superficiali verrà realizzata attraverso l'utilizzo di pozzetti e tubazioni collegate alla condotta comunale già esistente. In via Fabio Filzi verrà invece sostituito il guardrail danneggiato in corrispondenza con il ponte di via Vigne Basse. Sarà costruito un nuovo banchettone in calcestruzzo e verrà riportata una nuova barriera stradale di tipo H2. Per garantire la sicurezza il via anche ai lavori di rifacimento del muro in via Isonzo di Zoverallo, parzialmente crollato, che verrà ricostruito in cemento armato. Queste ultime due opere sono costate all'amministrazione comunale 80.000 euro. Continua l'impegno dell'amministrazione comunale per mettere in sicurezza alcune vie della nostra città con alcuni interventi dal costo complessivo di 12.000 euro, hanno dichiarato il sindaco Silvia Marchionini e l'assessore ai lavori pubblici Roberto Brigatti. Opere con lo scopo di mantenere in sicurezza pedoni e automobilisti.